buongiorno ragazzi non so se l'avete capito mi piace la canzone napoletana a parte il suo napoletano voi lo sapete io lo so forse gli altri non lo sanno ma non ce ne frega niente grazie ancora ho aperto il gruppo su facebook ho aperto prima il gruppo per vedere come va e poi più in là se ci riesco apro una pagina facebook vediamo come va con il gruppo comunque ancora grazie e tanti mi piace anche sul gruppo continuerò a mettere video su youtube ovviamente grazie ancora un grande bacio e un ciao a tutti da Dato grazie a tutti grazie a tutti